Dicevo quindi ripercorriamo quello che è successo nel 1991 che a occhio e croce non è stato un grandissimo anno per il pugilato. C'è la solita confusione, il solito eccessivo numero di categorie di peso, siamo arrivati a 17, ci sono queste 4 sigle mondiali, quindi ci sono 68 titoli mondiali. C'è un clima di autentica anarchia, adesso stanno proliferando le sigle, se ne nasce ogni giorno una praticamente, ma io l'ho detto ancora qualche anno fa, lo scandalo non è che ce ne siano 4, 5, 6, potrebbero esserne 10 o 20, lo scandalo è che ce ne sia più di una. Boxing Federation, alle volte anch'io faccio confusione tra queste, sembra di fare un gioco con le lettere dell'alfabeto, IBF, International Boxing Federation, WBC, World Boxing Council, WBA, World Boxing Association, WBO, World Boxing Organization. Queste le 4 sigle che giocano con i titoli mondiali del pugilato facendo perdere credibilità a questo sport che invece può ancora offrire dei grossi spettacoli, ha ancora una sua credibilità, malgrado appunto si faccia di tutto per toglierla. Io credo che ormai WBC, WBA, IBF oppure WBO non abbiano più nulla da perdere sul piano della dignità, perché questi organismi sono veramente degli organismi ridicoli, come sono ridicoli i dirigenti che ne fanno parte. In sostanza proprio una idea assolutamente inutile che toglie ancora un po' di credibilità alla già poca che avevano queste 4 fantomatiche organizzazioni, ripeto, che si dividono i titoli mondiali. Nella scala dei valori si vuole che forse la WBO sia la peggiore, probabilmente è anche vero, l'episodio proprio dell'incontro tra Morrison e Tomacek è stato uno dei più penosi ai quali si si è assistito negli ultimi tempi, però adesso la IBF pone la sua candidatura a ruolo di organizzazione più inutile. L'inizio della carriera, la cosa straordinaria è questa, che Marvin Agler è giunto ad avere un'opportunità per il titolo mondiale dei pesi medi dopo aver sostenuto 50 incontri, e alcuni di questi durissimi. Oggi ci sono pugili che dopo 10 incontri combattono già per il titolo. Il vostro primo titolo è venuto dopo aver sostenuto 50 incontri, e ora hai combattere che dopo 10, 12, 15 incontri hanno un'opportunità titolo. Sì, hanno questa opportunità, se non gli va abbastanza bene, allora posso andare a un'altra categoria e fare un altro comportamento, quattro opportunità. Io raccomando, caldamente, che ci fosse solo un campione in tutto il mondo, non quattro. Come posso essere io campione e lui dice che lui è campione. È ridicolo che ci siano quattro persone che possono dire contemporaneamente di essere campione del mondo, ma gli amici che seguono questa trasmissione e questo discorso lo hanno sentito da me già parecchie volte. Ma, insomma, questo è il pugilato. Non tutte le ciambelle riescono col buco. È tutto per l'appuntamento di oggi, io vi ringrazio per avermi seguito, ma vi ricordo, prima di chiudere il nostro indirizzo, allora, chi vuole scrivere? Ecco, vi prometto, non prometto una risposta, ma prometto di leggere tutte le lettere. Ecco, con il sistema tradizionale, la grande box, Viale Europa 59 a Cologna, e poi abbiamo anche il sito internet e email, perché, ripeto, siamo diventati moderni, e fortunatamente ci sono dei giovani più brillanti e più svegli di noi in queste nuove tecnologie che si servono giustamente di questi mezzi di comunicazione.